L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, vista l'emergenza sanitaria Covid-19, ha deciso di ridurre al minimo le possibilità di contagio, attivando lo smart working per i suoi dipendenti, garantendo la continuità lavorativa ai fini della ricostruzione. Inoltre, per tutelare tecnici richiedenti, l'USRA ha implementato sul proprio sito la nuova piattaforma di acquisizione i documenti online. La documentazione da caricare dovrà essere riunita in una cartella, contenente tutti i documenti in formato PDF correttamente rinominati. Fondamentale è la scansione dei documenti cartacei firmati. Successivamente la cartella andrà compressa e rinominata, come descritto nella sezione FAQ della piattaforma. Essenziale sarà allegare alla documentazione la lettera di trasmissione scaricabile dal sito, che verrà protocollata dall'ufficio e reinviata via PEC al mittente. Pertanto è importante la presenza dell'indirizzo PEC in fondo al documento. Quando la documentazione sarà completa, bisognerà collegarsi sul sito usra.it ed entrare nella sezione dedicata alla piattaforma. Al primo ingresso si dovrà procedere alla registrazione tramite il form presente nel menu a destra del sito, prestando particolare attenzione al codice fiscale e alla password che serviranno successivamente per accedere al profilo personale. Completata la registrazione, bisognerà attendere l'approvazione che verrà confermata da una mail all'indirizzo di posta indicato. Accedendo al proprio profilo personale dalla sezione accedi della piattaforma, andranno inseriti il codice fiscale e la password usati per la registrazione. In fondo alla pagina riepilogativa si troverà il link che permetterà di caricare ed inviare la documentazione. Completato il caricamento, la documentazione sarà correttamente inviata all'ufficio. Per qualsiasi informazione la procedura è disponibile nella sezione FAC della piattaforma ed inoltre è a disposizione l'indirizzo mail info-usra.it. Vi ringraziamo per l'attenzione e buon lavoro!